Il commissario alla riparazione e ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, ha emesso l'ordinanza 169, ridefinendo le scadenze cruciali per la presentazione dei progetti di ricostruzione privata di edifici con danni gravi. Questa nuova disposizione si applica a coloro che beneficiano del contributo di autonoma sistemazione, caso usufruiscono di una soluzione abitativa d'emergenza, SASH, MAPRE o altre forme di assistenza abitativa. Il commissario Castelli sottolinea l'importanza di adattare la ricostruzione alle esigenze reali di progettazione e cantierizzazione. Dopo un fruttuoso confronto con le professioni tecniche e i territori, in collaborazione con i presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, e in accordo con la protezione civile nazionale, si è deciso di ridefinire in modo accurato il quadro delle scadenze. Questo intervento è mirato a evitare difficoltà procedurali e interpretative che avrebbero potuto danneggiare i terremotati. La priorità è garantire che i cittadini residenti possano abbandonare la forma di assistenza statale per tornare alle proprie abitazioni.